E c'è un progetto rivoluzionario per trasportare le merci ad una velocità incredibile, ad esempio da Roma a Milano in soli 20 minuti. Ed è un progetto che è stato studiato all'Università di Perugia con una sessantina di persone. Vediamo. Non porterà uomini sulla Luna, ma merci leggeri in 20 minuti da Roma a Milano sì. Il progetto, creato in Italia, si chiama PipeNet e nasce da un'idea che già 20 anni fa prendeva atto che ormai i sistemi di trasporto tradizionali andavano verso la saturazione. PipeNet è un mezzo di trasporto studiato all'Università di Perugia, brevettato a livello internazionale con l'obiettivo, tra qualche anno, di velocizzare la consegna delle merci, eliminando traffico e inquinamento. Negli ultimi 15 anni sono state sviluppate le tecnologie necessarie a implementare un sistema innovativo, a basso impatto ambientale, che consente di spostare una tonnellata al secondo con pochissima energia consumata. I brevetti che abbiamo realizzato addirittura sono di quasi 20 anni fa, poi ne abbiamo fatti altri nel corso dello sviluppo del prototipo e abbiamo ricevuto finanziamenti sia dal Ministero dell'Ambiente che all'interno di progetti europei. A Terni abbiamo realizzato un prototipo di una lunghezza di 100 metri. Il sistema funziona attraverso tubi ad aria evacuata in cui delle capsule ermetiche contenenti la merce vengono spinte da un motore elettrico lineare maglev, cioè a lievitazione magnetica, che in assenza di attrito funge da propulsore per arrivare addirittura fino a 2000 km orari. Il segreto di togliere l'aria è fondamentale perché in questo modo non si consuma energia o praticamente senza attriti. Un miliardo e mezzo di capsule viaggerebbero a disposizione di tutti coloro che devono trasportare la merce. I tubi dal diametro di circa un metro e mezzo scorrerebbero affiancando infrastrutture di trasporto esistenti. Noi potremmo portare una tonnellata al secondo da Reggio Calabria a Milano in meno di un'ora. Il sistema che noi abbiamo immaginato prevede la realizzazione di due coppie di tubi parallele alle infrastrutture ferroviarie che hanno un raggio di curvatura compatibile con questa tecnologia, che ci permetterebbe di sfruttare le pertinenze delle ferrovie che sono vincolate, come sappiamo, e sono soggette a servitù per realizzare questa infrastruttura in pochissimo tempo. L'altra particolarità è che l'energia sarebbe prodotta da pannelli fotovoltaici sopra l'infrastruttura e dai nostro progetto risulta che addirittura i pannelli sarebbero in grado di produrre tre volte l'energia consumata dal sistema. Quindi avremo anche una ridondanza significativa di energia rinnovabile prodotta. Questo sistema abbasserebbe di milioni di tonnellate all'anno alle emissioni di CO2. Non è fantascienza, ma le tecnologie sono pronte. Servono ancora tre o quattro anni per fare un test definitivo su un tratto di 20 chilometri del prototipo Pipenet. Nel 2030 noi vogliamo che entri in esercizio commerciale. Dal 2030 in poi, sei anni, sette anni, per costruire tutta l'infrastruttura che collegherebbe la dorsale italiana Reggio Calabria, passando ovviamente per Roma, Bologna, fino a Milano, il nord e il sud dell'Italia. Grazie. Grazie.